Ricaricami il telefonino, ti mando in cambio una mia foto porno. È successo in Friuli e la protagonista è una ragazzina di 13 anni. I carabinieri di Tolmezzo hanno sequestrato decine di hard disk e telefonini che contenevano sue foto hard. 34 persone, di cui solo 5 maggiorenni, sono adesso indagate. Grazie per la visione!